Siete sui primi capelli che fanno cagare, però comunque oggi parliamo del collegio, si lo faccio per visualizzazioni Cosa ne penso io del collegio? Io credo sia una trasmissione finta, palesemente finta Basta vedere le prime puntate e rendersene conto Io l'ho visto con molta attenzione questa nel collegio, l'ho visto tutte e quattro le puntate E posso dire che è finto ragazzi, è palesemente finto Perché io vi spiego che adesso ogni Marachella che facevano questi ragazzi Avevano appunto il regista con la luce, proprio con la luce Che li andava a registrare con la telecamera e con la luce una torcia E appunto si vedevano le Marachelle e le cose che facevano la notte Ma proprio si vedeva, si vedeva, cioè che era finto, era tutto abbastanza programmato Era abbastanza programmato, appunto si vedeva, no? Non può essere tanto vera una cosa del genere una trasmissione così E diciamo ci sarà sicuramente dietro qualche ingaggio Anche perché ragazzi vi faccio capire perché è finta questa trasmissione Perché diciamo ci sono i protagonisti e poi ci sono quelli là magari che passano in secondo piano Che parlano di meno, vengono meno interpellati I protagonisti sono appunto quelli che diventano più famosi Quelli che magari vengono visti, tra i più interessanti che magari richiedono il provino Sono i più interessanti quelli che magari fanno più ridere Quelli che diciamo sono più simpatici e li fanno diventare più famosi Magari quelli là meno simpatici li mandano via Appena fanno una Marachella per far vedere appunto che sono seri Ha per esempio quel nestola lì che appena ha fatto una Marachella così Se ne è subito andato invece dichiara Fa miliardi di roba insieme anche a quell'altro che capiglia E non l'hanno mandato via, l'hanno mandato magari Gambuzza via Però giusto per far vedere qualcosa per dire che non si fanno distinzioni Però sicuramente c'è qualcosa che appunto sicuramente non è tutto vero O almeno è vero al 50% Ma secondo me più del 50% è falso Magari il 70-80% di quel che fanno è falso Andiamo invece alle stime dell'ingaggio Allora le stime dell'ingaggio Secondo me l'ingaggio può essere tra i 10.000 e i 20.000 euro Perché comunque stanno chiusi lì un mese, un mese qualcosa Chiusi lì comunque senza i genitori La responsabilità è loro Appunto di questi insegnanti, del preside che poi ho letto Che è un attore appassionato di teatro Si vede che recita palesemente Comunque vengono messi in questo collegio comunque lontani dalla famiglia In cui devono essere bravi a recitare In cui devono comunque interpretare la parte per bene E ovviamente i genitori devono essere attribuiti Devono avere qualcosa in cambio per mandare i loro figli in televisione A far figure di merda insomma Perché è quel che fanno in fondo E a fare una trasmissione falsa Che poi è un reality ma Diciamo Così E ovviamente 10.000 euro magari per quelli che sono secondari 15.000 euro per quelli là che fanno interventi abbastanza spesso Ma non sempre 20.000 magari per quelli proprio protagonisti Come Matteo Scaveglia e De Chiara La Rossi E ragazzi questo era tutto quel che penso del collegio E ci vediamo in un prossimo video Ciao